L'Italia va ventura e salvo e quindi dopo aver dato tante notizie, molte sicuramente non belle, il tempo poi è riuscito a fare una somma pazzesca e allora l'Italia non va ventura e salvo. Cosa è accaduto ieri, avete visto la partita, chiudiamo come si chiude generalmente in tutte le vicende dei TG, dove il calcio è sempre finale, l'Italia ha battuto l'Abbania Scutari e quindi è entrata nei play-off che si terranno a novembre. Avete visto, avete letto, avete sentito? Ecco, qui vedete, peraltro, io la impallo un po', quindi mi sposto, c'è l'esultanza dei giocatori, vedete Italia-Albania 1-0, c'è l'esultanza dei giocatori che festeggiano il gol di Candreva, che ci dà la vittoria ed è bella questa fotonotizia perché vedete in lontananza che c'è invece la panchina, vedete Ventura, vedete Oriali, non c'è una grande manifestazione di partecipazione, voi sapete che quando si vince ci si abbraccia tutti insieme, questo era un gol importante. Vedete anche Oriali che cammina verso Ventura. Vediamo la seconda foto, vedete Ventura che praticamente sembra quasi girarsi e se ne va e c'è Oriali che lo abbraccia, come un Ventura quasi fosse un uomo solo al comando, quasi si interrogasse su quello che ha visto, perché non ha visto Ventura una grande partita, non ha visto una grande Italia, ma è un'Italia che a me il risultato l'ha portato. Vi facciamo vedere invece cosa accadde esattamente un anno fa quando l'Italia segnò il gol che ci dava la vittoria sulla Spagna negli ottavi. Guardate qui il popolo della panchina italiana, tutti gli atleti, tutti i giocatori, guardate Buffonne come sommerge di baci Conte, l'allenatore italiano. Guardate il clima, completamente diverso. Questa è una squadra, caro Ventura, non quella che abbiamo visto prima. e questo purtroppo tu non sei riuscito a darcelo e questo purtroppo speriamo di no, ma pensiamo che alla fine ci tradirà.